Io ho iniziato a fare politica all'età dei 13 anni, oggi ne ho 37, ho fatto la militanza all'interno delle scuole, ho fatto il consigliere comunale all'Aquila, quindi non diciamo propriamente fulminia. Oggi facendo parte di una maggioranza sono onorato dell'indicazione che il Presidente Marsilio ha dato sulla mia persona e adesso abbiamo sulle spalle tutta la responsabilità di governare in modo corretto la nostra regione e l'Abruzzo. Quindi lei sarà parte integrante, ferma della maggioranza? Io mi sono candidato in una coalizione con un programma e con Marco Marsilio Presidente, governo con la mia lista civica, il Comune dell'Aquila insieme a Pierluigi Biondi Sindaco, quindi io ero e sono parte integrante della maggioranza. Rimarrà monogruppo? Rimarrò monogruppo. E il rapporto con Zelli invece che è uscito da azione politica? Vedremo in qualche modo di poter avere un atteggiamento di pontiere, cioè di riportare tutta azione politica all'interno della maggioranza, anche perché la lista ha contribuito con 20 mila voti all'affermazione di Marco Marsilio e non va disperso questo patrimonio. Rispetto alla partita dell'Aggiunta, insomma un riconoscimento l'ho avuto, possiamo? Beh, io non confonderei i piani, il piano dell'Aggiunta e il piano del governo della regione e il piano del Consiglio sono due cose differenti. Oggi all'interno del Consiglio regionale la maggioranza ha inteso dare un riconoscimento ad azione politica.